C'è una tornata importante oggi ad Arziniano perché nasce una vera e propria task force contro le PFAS, sostanze per fluoro alchiliche. Si tratta di un tavolo tecnico per coordinare gli interventi che avranno come obiettivo la prevenzione e l'abbattimento degli inquinanti. Un tavolo tecnico che mette assieme comuni della provincia di Vicenza e di Verona, in particolare del lato Bacchiglione, del consiglio di Bacino Valle del Chiampo e del lato veronese. Una serie di interventi dovranno coordinare che prevedono una spesa di circa 180 milioni di euro. Si partirà con i soldi già stanziati dal governo e c'è 80 milioni di euro. Che cosa dovrà fare questo tavolo tecnico? Dovrà occuparsi della prevenzione e abbattimento degli inquinanti, del monitoraggio e prevenzione della diffusione nell'ambiente di PFAS, di interventi per l'abbattimento delle sostanze per fluoro alchiliche, della sostituzione della fonte di approvvigionamento di almisano, che ha una funzione strategica in tutto questo discorso, questo con il fine di garantire l'utilizzo di acqua potabile in falda, connettendo tutte le reti dell'acquedotto. Ovviamente una task force che ha avuto la sua presentazione in comune ad Arcugnano. Sentiamo. Sindaco, allora, si tratta di un'importante iniziativa che mette assieme diversi comuni di aree diverse. Sì, le aree diverse sono i comuni afferenti al consiglio di Bacino di Acque Veronesi, la Val Chiampo, i 13 comuni della Val Chiampo, cui io presiedo come presidente, e quelli della Bacchiglione, quindi la zona di Vicenza. Tutto questo Arzignano ha una posizione veramente centrale, si potrebbe dire strategica anche per il suo ruolo industriale. Sì, è strategica perché ovviamente quelle soluzioni che si andranno a trovare, cioè che consistono nel portare l'acqua pulita dai, che non rappresentano inquinanti, che sono i PFO e PIFAS, oramai noti a tutti, a otto atomi di carbonio, deve arrivare l'acqua pulita in quei comuni, dove attualmente, perlomeno nel mio consiglio di Bacino, Brandola e Lunigo soprattutto, dobbiamo attivare continuativamente i carboni attivi, con le spese ovviamente che al momento sono solo a carico degli utenti e degli acquedotti, quindi del nostro gestore principale delle acque del Chiampo e Medio Chiampo. Bisogna abbattere quelli, oltretutto si procede continuamente agli allacci, nuovi allacci, quindi costi aggiuntivi, perché il governo ha deliberato finalmente, attraverso il Ministero della Difesa del Territorio e dell'Ambiente, di 80 milioni famosi per procedere all'attivazione di queste opere. Ecco, un'ultima domanda, si sa già in che modo investirà il territorio di Azziniano questo sistema di opere? Beh, questo sistema delle opere riguarderà, soprattutto d'accordo con i comuni, il nostro gestore principale degli acquedotti dell'acqua, l'acqua ovviamente dell'acquedotto, che è Acqua del Chiampo, che ha tutta l'impiantistica utile per svolgere quegli stracci che saranno di nostra competenza, sotto la guida anche degli altri consigli di bacino, che sono ovviamente più numerosi e più sostanziali rispetto a noi. Alessandra Maule, direttore del consiglio di bacino Valle del Chiampo, praticamente, tecnicamente, che cosa farà questo tavolo? Allora, il tavolo prevede l'interconnessione dei tre consigli di bacino per individuare quelli che sono gli atti, le attività e le fasi per poter arrivare ad una programmazione condivisa in merito alla problematica dei fasi. In particolare quella di individuare quali sono i primi provvedimenti e i primi da intraprendere per la risoluzione, per superare e bypassare la falda di Almisano, che è la falda contaminata, per poter poi arrivare a dare acqua a tutti i territori, acqua che è non più contaminata. Quindi il tavolo che è stato costituito e che già si è riunito in altre tre precedenti riunioni coinvolgerà anche tutti gli enti gestori, in modo tale che le soluzioni tecniche vengano condivise tra tutti. E per lo Street TGD TV Web da Arzignano è tutto, Paolo Usinabia.